Un programma presentato da Fano Computer, da più di vent'anni al vostro servizio. Via Fraghetto 8, Fano. Metal 4 SRL, offriamo soluzioni conto terzi per la lavorazione della lamiera. Ci trovi in località Schieppe di Orciano, a terre roveresche. Sport Park, la tua scelta per feste di compleanno, feste aziendali e team building. 40.000 metri quadrati di divertimento con bowling, biliardo, ping pong, sala giochi, playground, bar e ristorante. Sport Park è a Fano, in Viale Dante Alighieri 150. Agenzia Generale Unipolsai, Aniballi e Associati. Sede di Fano, in Via delle Querce 11, zona ex Zuccherificio. Sede di Pesaro, in Via Mameli 72, centro direzionale Benelli. Francesco Gomme e Servizi, sostituzione e riparazione degli pneumatici. Le migliori tecnologie e soluzioni per ogni tipo di veicolo. Via Agnelli, Lucrezia di Cartoceto. Walter Pucci, carpenteria certificata, lavorazione laniere e creazioni in ferro battuto. Via Toniola 8, Bellocchi di Fano. Buonasera e ben ritrovati a Sportissimo, il settimanale di Fano TV. L'alma ci crede e non è un modo di dire. Almeno a vedere la partita con il Campobasso capolista, che veniva da 5 vittorie consecutive, l'impressione da questo punto di vista è stata confortante. Ne chiederemo comunque ragione ad Ettore Padovani, attaccante della squadra Granata, e in gol su azione dopo tanto tempo domenica scorsa per un 1-1 che pesa. Ettore, buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie. Quanto aspettavi questo gol? Beh, direi più di un annetto, diciamo, perché dopo l'infortunio non stavo benissimo. Ho fatto gol solo su rigore, è un gol che lo aspettavo, è venuto contro la prima della classe, è una partita pareggiata secondo me meritatamente, quindi è andata bene, dai. È un punto che ci serve in ottica dell'obiettivo finale. Ecco, ripercorriamo la tua vicenda personale, così ce la mettiamo da una parte e non ci torniamo su. Sei arrivato a Fano, voluto fortissimamente da Mosconi, ottimo inizio di stagione, la passata, poi quel disgraziato infortunio con Roma City, un infortunio che ha comportato un intervento chirurgico per rimettere a posto il crociato e che soprattutto è stato accompagnato da una riabilitazione, da un rientro molto laborioso. Sì, come detto, dopo l'operazione, la riabilitazione diciamo che non è andata proprio benissimo, quello mi ha rallentato un pochettino. Quest'estate ho lavorato parecchio, sono andato anche in un centro a Cesena per cercare di velocizzare il tutto, però questi infortuni purtroppo sono lunghi e non rispondono tutti allo stesso modo. Ci ho messo un pochettino per tornare in squadra e nell'ultimo periodo inizia a stare bene, però ecco, è passato già un annetto. Ecco, la tua presenza in campo ormai è ricorrente dall'inizio della stagione, però era noto come durante la settimana tu avessi dei problemi ad allenarti, quindi fatalmente la domenica le tue prestazioni in qualche modo ne risentivano sul piano della tenuta e anche della consistenza atletica. Sì, perché venivi dopo la partita col ginocchio gonfio, sempre un po' infiammato, quindi gestivamo la settimana per farlo sgonfiare. Ecco, si ripresentava la domenica un'altra partita con il ginocchio dolorante, quindi è stata dura, è stato un periodo duro. Fortunatamente adesso me lo butto alle spalle, sto bene e voglio dare il mio contributo per questo rascio finale. Che tu stia bene lo si è notato chiaramente in particolare domenica, perché non si è trattato soltanto del gol molto pesante, ma anche di una prestazione estremamente convincente. La tua presenza in campo è stata significativa dal primo minuto all'ultimo. Sì, e questo mi fa piacere, se sto bene fisicamente cerco di dare sempre il massimo e domenica nella prova stavo bene, mi sentivo bene, ho lavorato per la squadra, poi il gol è una conseguenza. Vediamo le immagini di questa sfida con il campo basso, che diciamo non si è aperta nel modo migliore, perché dopo pochissimi minuti, poco più di tre, probabilmente per una incomprensione difensiva è stata data la possibilità a Grandis di superare con un pallonetto Guerrieri. Ora Alma terz'ultima in classifica, arriva la prima della classe, è lanciatissima, si va sotto di un gol e in circostanze comunque rivedibili. Cosa avete pensato in quel momento? Beh, lì purtroppo siamo in un momento delicato, quindi un gol così a freddo ci ha un po' destabilizzato, però l'abbiamo gestita bene, devo dire, rispetto a altre gare, quindi abbiamo reagito subito. Poi l'infortunio di Calombo, che forse anche quello ci ha dato quella forza in più per andare a riprendere la partita e poi nel secondo tempo ci siamo riusciti. E comunque un segnale di reazione preciso, coinciso anche con una tua, diciamo, mezza palla gol che abbiamo visto precedentemente. Dicevi dell'infortunio a Calombo, un'altra pedina sulla quale l'Alma non potrà far conto e tra l'altro che va ad aggiungersi a Tomassini, altro giocatore che era stato a lungo titolare, che non potrà dare più il suo contributo di qui alla fine del campionato. È vero che in qualche modo le disgrazie rafforzano lo spirito, forse è un conto un pochino troppo salato quello che si sta pagando alla sfortuna. Sì, è una pedina importantissima come lo era Tomassini, però purtroppo nel calcio succedono e sarà quel valore aggiunto che ci darà la forza per fare ancora meglio. Certo, come dici tu, sul campo ci viene a mancare una pedina importante, però abbiamo ragazzi comunque pronti, preparati, forti in panchina che ci daranno il contributo importante. Se si parla di under poi in particolare, Manoni ha insistito a lungo domenica con 5 under, quindi uno in più di quanto non imponga il regolamento, segno che un po' tutti possono portare il proprio contributo ad una squadra che poi nel corso della partita, di fronte ad un campo basso, che noi abbiamo giudicato un po' deludente, ma forse è stato anche merito del Fano, non si è assolutamente mai messa paura, ha continuato a mantenere più o meno lo stesso ritmo per tutto l'arco della partita, fino a trovare appunto il gol dell'1-1 e a soffrire poi molto relativamente nel finale. Sì, deludente non dirà, è comunque una squadra molto... Ma l'impressione è che abbia un po' speculato su questo gol di vantaggio, senza pensare che magari l'Alma potesse in qualche modo rientrare così efficacemente in partita. Beh, hanno avuto comunque un'altra occasione dove è stato bravo Guerrieri. Secondo me, più che deludenti loro, magari siamo stati bravi noi, perché dopo ci stanno... vanno date anche dei meriti. Beh, si gioca sempre in due. Siamo stati... secondo me abbiamo fatto una partita importante, li abbiamo limitati per quello che potevamo, e siamo stati capaci di riacciuffarla il secondo tempo. E magari con un pizzico di fortuna, magari potevamo anche con Gonzales, l'ultima lì, che ne so, magari portare a casa i tre punti. Però, al di là di quello, dicevamo degli under, abbiamo degli under forti, il mister, come ha detto lei, ci punta e giochiamo anche con qualche under in più. Quindi questa è la prova che il gruppo è unito, affiatato e tutti siamo a disposizione. Hai detto della possibilità addirittura di portare a casa l'intera posta in palio, che avrebbe potuto maturare anche quando l'arbitro, tra lo sconcerto generale, ha fischiato la fine della partita, mentre l'alma si era propiziata a una punizione poco fuori l'area di rigore, dalla quale magari sarebbe potuto nascere qualcosa. C'è stato un po' di parapiglia lì, la fine. Sì, perché comunque il fallo c'è stato, non era dentro, credo. Però entro i minuti di recupero... Però nei minuti di recupero, una punizione al limite, può succedere di tutto. Ecco, siamo andati un po' lì perché giustamente noi volevamo vincerla. Però va bene, è andata bene così. Dicevamo del tuo gol, non so se è possibile rivederlo, perché si è trattato anche di un'azione molto ben sviluppata, con Koulibaly che si è aperto sulla sinistra, ha messo un pallone molto morbido e preciso sul secondo palo. Il tuo merito è stato soprattutto di capire dove posizionarti in area di rigore, staccarti, lasciare che magari Pier Federici accorciasse sul primo palo e trovarsi poi nella condizione di colpire con più libertà. Sì, io ho visto per Federici che tagliava e quindi io mi sono defilato, sono andato sul secondo palo perché comunque ho sperato che la palla passasse. Non so se c'è stato un tocco di qualche difensore che l'ha un po' allungata, però mi sono trovato solo, complice anche un Bonacchi che ha tagliato tanto, quindi proprio solo ed è andata bene così. Ecco, l'ex in questo caso si è fatto ingolosire dal pallone. Dal pallone, sì. La gioia è grande di fronte ad un pubblico che è tornato anche numeroso domenica, ma soprattutto decisamente appassionato. Sì, c'è stata una bella coreografia, ma il pubblico ci ha sempre supportato, ecco, magari qualche giornata un po' di meno, però i tifosi ci sono sempre stati vicini dall'inizio del campionato, infatti è domenica, appunto ancora più numerosi, ci stanno dando una mano che ci serve fino alla fine. Si dice a volte, magari in maniera anche retorica, che la gente vuole vedere il sudore dei giocatori, ma al di là della retorica di questo Fano ha sempre colpito favorevolmente la grande edizione, il grande attaccamento che è stato dimostrato anche in passaggi molto complicati di questa stagione. Sì, sì, dai, siamo una squadra operaia, diciamo che corriamo, sudiamo, quello l'abbiamo sempre fatto, magari alcune giornate ci è riuscito meglio, altre meno, però parlo a nome proprio di tutta la squadra, ma vivendo anche il gruppo, noi scendiamo la domenica e cerchiamo di dare sempre il massimo. Siamo un gruppo giovane, magari non abbiamo grossissima qualità, e quindi le armi a nostre disposizioni sono quello, la corsa, la grinta, e abbiamo cercato di farlo sempre. Ovviamente la situazione di classifica è un po'... però queste sono le armi che mettiamo in campo e con queste sono sicuro che raggiungeremo l'obiettivo. Situazione di classifica figlia naturalmente anche di limiti che non bisogna nascondere, però retaggio anche di una vicenda, anche società molto laboriosa che adesso ha trovato una sua conclusione con il passaggio nelle mani del presidente Guida. Siete passati anche da due cambi di allenatore, insomma sono quelle stagioni in cui probabilmente soltanto la compattezza che avete dimostrato può consentire di venire in qualche modo a capo. È vero, è vero. Come hai detto tu, il presidente è via, allenatori via, società nuova, tante problematiche che non mi va nemmeno di stare a ribadire perché ormai fa parte del passato, però sì, in questo caso se non c'è un gruppo solido, coeso, sono quelle annate che iniziano male, come si dice, e finiscono peggio. Invece noi stiamo lì, siamo vivi, ci crediamo, siamo più tranquilli perché comunque con l'ingresso della nuova società ci ha dato quella tranquillità che ci serve a noi per affrontare quest'ultima parte di campionato. I mister che si sono successi in banchina, anche loro ci hanno dato quel qualcosa in più, tutti quanti hanno contribuito a rendere ancora di più unita questa squadra e adesso lavoriamo bene e cerchiamo di dare il massimo e vogliamo andarci a prendere questo obiettivo che non è impossibile. I risultati dell'ultima giornata con la lotta in coda sempre molto accesa, un passo in avanti significativo, l'ha fatto il Real Monterotondo andando a vincere a Riccione e inguagliando di nuovo la squadra romagnola che a un certo punto, anche perché dotata comunque di un organico di tutto rispetto, si era in qualche modo allontanata dalla zona a rischio, anche lì cambi di allenatore a getto continuo, Vasto Girardi che è stato contenuto dalla Termoli in uno scontro diretto, non è andato oltre il pari anche il Tivoli, fondamentalmente lì in fondo le cose sono rimaste più o meno come erano prima. Sì, più o meno, questo ti fa capire che il campionato è molto equilibrato, non c'è ultima, non c'è prima, per così dire. Tutte le partite hanno una storia a sé, sono tutte molto difficili, guarda l'Aquila, squadra fortissima, che però... Che contro Dio è stata un'ottima impressione. Un'ottima, va a perde, guarda la San Benedettese in casa, quindi però noi dobbiamo pensare a noi. Contro questo Notaresco che qui aveva fatto Faville, sembrava che fosse tutta colpa dell'alma, in realtà anche il resto del campionato dimostra che si tratta della rivelazione indiscussa. Sì, sì, Notaresco è una buonissima squadra, con un mister bravo che gioca bene, quindi è un campionato dove tutte possono vincere contro tutte e perdere contro tutte. E lo avete dimostrato anche voi, avete fermato con pieno merito il campo basso, avete perso dalla San Benedettese, ma al termine di una partita in cui anche la San Benedettese ha fatto molto poco per legittimare quel risultato. All'Aquila è andato un po' peggio, ma all'andata comunque anche contro l'Aquila avevate detto la vostra. Insomma, questo è di buon auspicio anche per queste ultime sette partite, nel senso che non ci sono gare in cui dire, beh, insomma, qui non c'è trippa per gatti. No, non ci sono gare impossibili, tutto è aperto, anzi, quelle più difficili sono secondo me quelle dove vai a giocare con le squadre che stanno messe peggio di te o come te, perché poi dopo a livello di motivazioni contro il campo basso, la San Benedettese, il Chieti, è più facile. Invece le squadre un po' più, che stanno ecco con la cola cola come noi, quelle sono le gare dove devi stare un po' più accorto. La classifica adesso per verificare appunto quali sono i rapporti di forza, al momento l'Alma disputerebbe i play-out, perché è terz'ultima e comunque la sest'ultima è sotto gli otto punti di differenziale, la salvezza diretta a sette lunghezze. Allora, ragionevolmente, anche se non è il caso di fare calcoli, perché da ogni partita bisogna sprevere il massimo, ma realisticamente quale può essere l'obiettivo? La salvezza, l'obiettivo. In un modo o nell'altro? In un modo o nell'altro. O diretta o tramite play-out, ma per noi l'obiettivo è salvarci, allo scadere dell'ultima giornata o magari con i play-out. Chi vedi tra le squadre di bassa classifica messa meglio anche dal punto di vista del momento che attraversa e quella che magari hai visto, hai notato in maggiore difficoltà? Ma io ho visto il Termoli che lì non giocavo lì in casa loro, ed è una squadra forte. Il Tivoli... Qui a Fano, insomma, ha fatto la voce grossa. Ha fatto la voce grossa, ha anche risultati importanti. Il Montero Tondo lo stesso, non lo so, non c'è una squadra, ti giuro, non riesco a dire chi potrebbe essere meglio o peggio. Anche perché arriva la primavera, arriva il caldo, bisognerà anche misurare la tenuta atletica delle squadre, perché non tutte saranno in grado di reggere lo stesso ritmo di quella fine. Certo, sì, sì, quello sicuramente va a influire. Gli scontri diretti quanto incideranno secondo te? L'Alma ne disputerà tre. Sì, quello inciderà sicuramente tanto su quelle partite dove non si può sbagliare. È comunque anche vero che noi siamo a meno cinque, quindi non dobbiamo nemmeno sbagliare gli scontri diretti, perché potrebbero allungare il distacco. E compromettere la possibilità di giocare ai play-out. Non è uno scontro diretto, ma comunque è un match molto sentito, quello di domenica prossima. Senigallia, avversario ormai ricorrente in queste ultime due stagioni, tra campionato, play-off, Coppa Italia, insomma. Fanno i Senigallia e si sono trovate in continuazione. All'andata finì 2-2 con la squadra granata riacciuffata proprio nel finale, dopo aver giocato una più che discreta partita anche allora, doppietta di Tencoranga, che non fa più parte di questa squadra, e forse nella situazione attuale di classifica quel distacco ha avuto il suo peso. Vigor a sua volta molto penalizzata, dobbiamo dire, dagli infortuni quest'anno, però comunque competitiva perché mantiene un'identità molto precisa. Certo, è un bel gioco, a chiunque gioca anche lì fa bene. Ritroviamo anche tanti ex del fano, tipo Capezzani, c'è lo stesso Zammarchi, Broso, quindi è sempre un derby, è sentito. Ho visto una squadra che in casa comunque gioca bene, io l'ho vista contro il campo basso e mi ha impressionato perché giocano veramente bene, quindi è una gara difficilissima. È una gara che l'Alma dovrà interpretare come? Considerate anche le caratteristiche dell'avversario. Va interpretata nel modo giusto, comunque dobbiamo cercare di limitare i loro giocatori offensivi, che sono molto forti, comunque loro giocano molto bene, quindi in questo caso è non prenderlo per poi cercare di ripartire e magari fargli male. Si gioca in trasferta, ma non sarà una trasferta come le altre, perché è prevedibile che ci sia, come sempre è stato a Senigallia in questi ultimi due anni, un consistente afflusso di pubblico granata. Questo sarà determinante nell'economia della gara, o comunque avrà il suo peso. Sì, sì, Senigallia fa molti spettatori, un bel ambiente caldo, sicuramente i nostri verranno, spero, numerosi. È una bella partita, una bella partita e andremo lì sicuramente per cercare di fare bene, perché a noi i punti servono. Si gioca sul sintetico e qui, è una caratteristica di questo campionato, da una settimana all'altra si passa dall'erba naturale all'erba artificiale, e sintetici anche molto diversi tra loro, quanto è difficile adattarsi alle diverse superfici? Beh, per chi viene come noi da campi erba naturale, un pochettino può influire questo. Comunque non è lo stesso terreno, quindi loro sono abituati a giocarci, sicuramente sono un po' abbandaggiati, però siamo abituati anche a questo, quindi il tempo di riscaldamento, prendi le misure, il terreno e vai a giocare la partita. L'obiettivo di squadra lo abbiamo già abbondantemente delineato, l'obiettivo personale di Padovani qual è? Ma Padovani per il momento pensa a stare bene. La salute prima di lui? La salute, perché mi sto concentrando molto e sto lavorando molto sullo stare bene. Poi l'obiettivo personale è la salvezza, non parlo di gol perché voglio stare bene, dare il mio contributo e basta. Grazie a Dettore Padovani, attaccante dell'Alma Juventus Fano, noi torniamo fra qualche attimo. E dedichiamoci ora alla pallavolo. Smart System che fa il suo dovere sul campo del Marcianise già a retrocesso, si impone in 3-7 in una partita senza storia e risale al secondo posto della classifica del campionato di A3 maschile. Mentre vediamo scorrere le immagini delle battute finali della gara contro i campani, andiamo un po' a scrutare quello che potrebbe avvenire nell'ultimo turno della regular season in programma per domenica prossima. Scontro diretto alla Palace Allende fra Smart System e San Giustino, due delle squadre coinvolte nella bagara alle spalle della capolista macerata che disputerà invece la finale per la promozione di Rettina 2 contro il Gabbiano Mantova che si è imposto nel girone centro-nord. Le altre squadre coinvolte in questa lotta per il miglior piazzamento in vista dei play-off sono il Lago Negro attualmente terzo in classifica e quel Palmi che rappresenta lo spauracchio che un po' tutti vogliono evitare alla luce in particolare per quello che riguarda la Virtus dell'esito della finale di Coppa Italia in cui la formazione regina ha saputo sorprendere a domicilio proprio quella di Mastrangelo. Come vediamo dai risultati dell'ultimo turno è stata in qualche modo non solo certificata la retrocessione del Marcianise e dello stesso Bari che era Agliatti ma si sono mischiate ulteriormente le carte per quello che riguarda la lotta per evitare i play-out con Sabaudia che ha incassato un brutto colpo a Lecce mentre per quello che riguarda Sorrento a sua volta non è riuscita a far punti a San Giustino. Venendo invece proprio alla lotta in chiave play-off e la classifica in questo senso ci può essere di conforto vediamo la Smart System appaiata a Lago Negro ma in vantaggio per quoziente set questo significa che in caso di successo pieno la formazione fanese conserverebbe la piazza d'onore che garantirebbe dunque un cammino più agevole nei play-off ma Lago Negro e San Giustino sono nella condizione di sopravanzare ancora la formazione virtussina e può ancora recare disturbo guadagnando posizioni quel palmi che come dicevamo è l'avversario assolutamente da evitare play-off che avranno inizio il lunedì di Pasqua e che avranno poi uno sviluppo intrecciato a quello che è l'andamento del primo turno dei play-off nel girone centro-settentrionale. Motori adesso perché siamo ormai alla vigilia della edizione 2024 del campionato mondiale Super Sport 300 Superbike di cui sarà protagonista e ci auguriamo a pieno titolo Marco Gaggi che torniamo ad ospitare Buonasera e bentornato Buonasera a tutti, grazie mille Si comincia, Barcellona nel prossimo weekend ma prima di tutto chiariamo porti una maglia che ha ben impresso un numero che è il 43 che non è il tuo abituale perché era il 93 allora cosa ti ha spinto a cambiare numero e quali sono le motivazioni? Ma innanzitutto era da un po' che ci pensavo sai perché il 93 era un numero che ho utilizzato per la prima volta nel 2008 l'ho messo E allora la scelta da cosa era stata dettata? Allora la scelta era stata dettata che era un numero che mi piaceva era un numero che io avevo sempre in testa lo scrivevo di continuo ero molto piccolo perché avevo 2008 o 5 anni e quindi misi il 93 completamente casuale diciamo però sai sono cambiate molte cose in questi anni ed era da un po' di anni che maturavo nella mia testa l'idea di cambiare, di cambiare e alla fine quest'anno mi sono detto adesso è il momento E come mai il 43? Il 43 innanzitutto è un numero che mi piace proprio da vedere è un numero che mi ha convinto molto Perché immagino che la scelta sia legata anche alla grafica o comunque all'immagine Sì comunque dai c'è un numero per un pilota il numero è molto importante quindi quando te vedi la tua moto col tuo numero dici bello invece ci sono alcuni numeri che personalmente non mi piacevano però tra tanti ho scelto questo anche per altre diciamo ragioni diciamo un po' più Personali Sì 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 un po' piccole scaramanzie dei piloti Dai Non è naturalmente sul numero che si punta per primeggiare in questo mondiale perché non nascondiamocelo ti presenti a questa nuova avventura iridata con notevoli ambizioni anche sulla scorta di quello che è stato il finale della scorsa stagione con tre podi un secondo posto insomma è mancata soltanto la vittoria ed è quello l'obiettivo per cominciare sin da questa prima gara Assolutamente sì quello è l'obiettivo primario però diciamo tendiamo a stare calmi e non focalizzarci solo su quello non ossessionarci solo sulla vittoria perché comunque l'importante è arrivare sempre nei primi tre, quattro e prendere punti importanti che sono quelli che alla fine del campionato fanno la differenza Anche per me mi segnalavi l'anno scorso che a vincere il mondiale è stato un pilota che poi di vittorie singole non è che ne ha messe diverse Sì no esatto esatto specialmente in realtà nella prima parte di stagione non era partito benissimo però poi nella seconda parte si è ripreso è stato molto costante è stato costantemente a podio alla fine e dopo gare chiaramente ne ha vinte perché non puoi vincere un campionato senza vincere una gara o meglio cioè è successo però è molto raro è molto raro sì esattamente però l'importante specie in una categoria come la nostra che è molto battagliata l'importante è stare sempre lì nei primi due tre ecco a podio ed essere davanti perché abbiamo visto come le gare di questo mondiale assomiglino spesso delle tonnare diciamo così sì sì quindi essere davanti il primo ti toglie dai problemi molte volte e secondo chiaramente quando sei davanti amministri la gara quindi quello è importante nelle nostre gare di gruppo chiaramente il sogno diciamo è l'obiettivo più che il sogno l'obiettivo è anche cercare di mettersi in testa il più possibile cercare di scremarlo questo gruppo e chissà magari una gara a provare a scappare in pochi ecco ci si avvicina a questo debutto sul circuito di Barcellona dopo i test abbiamo anche delle immagini qual è stato l'esito di questa marcia di avvicinamento alle gare vere e proprie ma bene bene quest'anno abbiamo fatto un po' di test abbiamo fatto un test in Spagna a Gerez abbiamo fatto un test qua a Misano e siamo contenti di come sono andati i test abbiamo provato tante cose quest'anno abbiamo un motore nuovo e quindi ci sono state tante cose da provare il team mi ha anche fatto un grosso regalo quest'inverno che mi ha concesso di usare un R6 che è una moto più potente è la moto diciamo della categoria superiore alla mia e mi ha fatto fare un bel allenamento mi ha fatto fare un bel allenamento che sono sicuro che ci servirà e ci tornerà molto utile hai citato il team sei stato confermato all'interno della BR Corse e questo naturalmente ti agevola nel senso che vi conoscete già sapete cosa uno può chiedere ed ottenere dall'altro sì sì abbiamo già creato diciamo un bel feeling è andato sempre ad aumentare e a parte che l'anno scorso già dal primo test era come ci siamo trovati subito e però chiaramente quando c'è un anno di esperienza scendi dalla moto col capo tecnico parli e vi capita il volo comincia ad essere uno dei più esperti del gruppo è così? alla fine alla fine sì ancora sono molto giovane però alla fine in questa categoria inizio ad avere un po' di anni di esperienza e quindi bisogna bisogna saperla sfruttare adesso e quanto conta questa esperienza in gara? io penso che ci sono dei momenti in cui conta molto l'anno scorso ho fatto tanti errori specie negli ultimi giri perché non ero abituato a volte a giocarmi la gara e questo abbiamo visto che conta ecco perché anche nel finale di stagione sono riuscito sempre ad avvicinarmi sempre di più alla vittoria a fare sempre meno errori nonostante comunque anche l'ultima gara col secondo posto anche lì c'è stato un piccolo errore che mi ha portato via la vittoria quali sono gli altri aspetti che potrebbero fare la differenza in questo mondiale? il primo come abbiamo detto prima la costanza è sicuramente la velocità e quest'anno visto anche il nuovo format bisogna essere diciamo veloci quando si arriva nel weekend di gara perché purtroppo abbiamo una prova libera in meno solo un turno di prove libere il venerdì e poi subito qualifica quindi bisogna spingere dal primo giro e diciamo le piste le conosciamo i dati ce li abbiamo quindi per noi non sarà un grandissimo problema la concorrenza chi ti fa più paura tra virgolette? beh sicuramente non possiamo non citare il team che ha vinto il mondiale il team MTM tutti e due sono molto forti tra l'altro uno dei due il mio ex compagno di squadra dell'anno scorso che ha finito terza nel mondiale quindi sicuramente loro saranno da tenere d'occhio il campione del mondo in carica che ha cambiato marchio è andato in KTM un'altra moto competitiva quindi poi comunque tornano altri due veterani un ragazzo spagnolo e un altro italiano Bruno che comunque sono veterani della categoria sono più grandi di me hanno più esperienza e quindi sicuramente saranno da tenere d'occhio però alla fine io non temo nessuno quest'anno il rapporto col tuo nuovo compagno di squadra? con Aldi diciamo che ci siamo visti poco indonesiano gli altri questa è una grande incognita in realtà perché quest'anno è stato un inverno forse un po' particolare perché di solito succede che i test alla fine più o meno tutti si va sempre lì in quelle date quest'anno invece ognuno ha fatto i test in date diverse quindi in realtà non sappiamo bene il valore il valore degli altri lo scopriamo venerdì quindi è un appuntamento al buio per certi versi sì per molte cose sì perché poi sai nella maggior parte delle giornate diciamo si fanno tante prove perciò è difficile capire il vero valore venerdì venerdì lo vediamo il vero valore si corre a Barcellona è un circuito che ti si addice? sì sì è un circuito che mi piace l'anno scorso siamo andati siamo andati bene in gara ho sbagliato io in gara 1 sono stato steso però in gara 2 ho fatto un piccolo errore io all'ultimo giro e quindi dobbiamo ripetersi come l'anno scorso senza fare errori hai detto del nuovo format ci sono anche altri aspetti che sono stati modificati? sì oltre che abbiamo un turno in meno di qualifiche quest'anno la griglia di gara 2 cambia perché tra gara 1 e gara 2 cambia mentre l'anno scorso in base ai risultati della qualifica si partiva uguale sia in gara 1 che in gara 2 quest'anno in gara 2 i primi 9 della griglia partono in base ai giri veloci di gara 1 quindi sarà un po' anche lì da vedere questa nuova regola perché comunque nella nostra categoria di solito il giro veloce lo fa chi è un po' più indietro che usa tante scie e quindi magari ci troveremo delle griglie in gara 2 un po' strane però vediamo cosa succede ecco gara 1 gara 2 cosa si fa nell'attesa tra una gara e l'altra si mettono a fuoco le situazioni che magari non hanno trovato ancora la perfetta quadratura si rivedono i video della gara per capire dove si può migliorare cosa appunto come capitalizzate il tempo a disposizione noi tra gara 1 e gara 2 di solito capita spesso che facciamo magari modifiche sulla moto che quindi si analizzano i dati di gara 1 questo non andava bene questo non andava bene lo correggiamo e poi a livello di guida e a livello di gestione della gara riguardiamo la gara più di una volta più di una volta riguardiamo la gara ci mettiamo lì una volta la guardiamo tutti insieme poi me la guardo da solo analizzo lì si poteva fare così lì si deve fare così la partenza dove è meglio partire e quindi c'è un gran lavoro tra gara 1 e gara 2 è importante incide anche la capacità di ottimizzare le energie fisiche e nervose visto che si tratta di due gare sì sì assolutamente sì comunque c'è una giornata diciamo c'è una notte in mezzo per recuperare non sono diciamo due gare come magari avveniva una volta il programma di una volta dove si correvano due gare nello stesso giorno essendoci diciamo una gara sabato una la domenica hai tempo di recuperare però sicuramente alla fine fai due gare in un weekend e la domenica si accusa un po' e invece il tempo che intercorre fra una gara e l'altra perché passa di norma un mese se non di più come si utilizza? lì si utilizza per dalla parte diciamo di moto si utilizza per migliorare quello che alle gare non sta funzionando cioè vedi che alle gare devi cambiare un po' il tuo stile e allora lavori su quello ti serve un po' più di resistenza per dire allora lavori su quello in moto poi invece in palestra diciamo si continua con il programma classico e a livello fisico si continua col programma classico e diciamo sei sempre pronto hai sempre voluto sottolineare in queste tue avventure mondiali il tuo legame con Fano che ti porti dietro testimonial di realtà locale amici senza frontiere la fondazione Maruzza credo che sarà così anche per questo nuovo percorso sì assolutamente sì ogni anno diciamo sono sempre più contento alla fine e anche la città diciamo comunque mi iniziano a seguire un po' di più quindi la senti ancora più vicina fa piacere fa piacere perché io amo Fano e amo i fanesi quindi diciamo sono molto contento nel frattempo hai iniziata la MotoGP hai seguito assolutamente sì la prova inaugurale come la vedi ecco assolutamente sì adesso per la MotoGP c'è Pecco che è in gran forma e quindi bisogna prendere tanto spunto da Pecco perché ecco lui per esempio tra gara sprint che è un po' come la nostra gara 1 e gara 2 lui lavora molto come si è visto anche nella nella gara in Qatar che ha fatto quarto in gara sprint e primo in gara 2 quello è tutto lavoro che si migliora è veloce a migliorarsi e poi dopo lo replica in gara e come vedi questo passaggio di Marquez su una Ducati tutti molti dicevano sicuramente stravince 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 invece ha fatto un po' quello che mi aspettavo cioè la MotoGP di adesso è un livello altissimo lui magari non è più il Marquez di una volta e comunque avendo anche tutti delle moto molto simili si fa fatica a fare la differenza proprio a favore hai citato dei campioni con alcuni dei quali sei venuto recentemente a contatto in primo luogo uno che non corre più ma che resta nel cuore nel cuore di tanti aggiungiamo due ruote da MotoGP Valentino Rossi sei stato coprotagonista al range del raduno chiamiamolo così che annualmente Valentino Rossi organizza credo che sia stata un'esperienza irripetibile è stato un sogno è stato un sogno veramente realizzato perché venire invitato a una gara come la 100 km che alla fine di base è una gara per divertirsi però è ultra competitiva comunque quando siamo lì siamo tutti molto competitivi ognuno vuole vincere e gli avversari sono tutti avversari la metà e metà griglia della MotoGP quindi insomma non è sicuramente una cosa facile poi il flat track è uno sport molto particolare e molto complesso però è stato un onore avrei avuto già modo di assaggiare le tue capacità su un terreno che non è proprio quello abituale sì 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 diciamo che avevo già avuto una giornata di prove prima della gara ho avuto l'opportunità di testare la pista e testare tutto però è un divertimento e soprattutto un onore è stato veramente che incredibile una grande grande emozione penso che il 2024 meglio di così non poteva partire e qual è il rapporto con questi grandi campioni sono personaggi alla mano bello sì perché comunque alla fine con alcuni magari ci si conosce già da tempo perché alla fine loro sono 5-6 anni più grandi di me quindi magari quando io iniziavo a correre loro erano già un pelino più avanti però sai un po' ci si conosce però è bellissimo quando hai la possibilità di allenarsi con loro perché sono i più forti in quel momento nel tuo sport quindi sono un punto di riferimento molto importante per crescere dal punto di vista agonistico come sono andate invece le cose il risultato è stato quello diciamo sperato sì sì il risultato è stato quello diciamo è stato un buon risultato comunque ho fatto la 100 km una gara un po' particolare che si corre in coppia e io ho fatto coppia con Matteo Gabarrini che lui è molto giovane ha 16 anni qua di Senigallia e tra l'altro il nuovo acquisto dell'Academy e quindi diciamo ci siamo divertiti eravamo la coppia più giovane in gara e quindi abbiamo fatto la nostra esperienza concludiamo con una foto che ti ritrae mentre rendi omaggio ad un ragazzo che non c'è più una foto che hai voluto pubblicare anche sui social chi hai voluto ricordare con questo omaggio anche floreale qua è un momento diciamo che mi tocca abbastanza sì perché comunque questo è Dejan che diciamo è il cugino di Maverick Vignales tra l'altro e che è scomparso in una gara a Jerez due anni fa due anni e mezzo fa nel 2021 e quest'anno quando sono andato a fare i test è stata la prima volta che tornavo lì dopo quel momento e quindi è stato un po' diciamo un momento un po' toccante per me anche perché io mi allenavo erano ormai due mesi che mi allenavo sempre con lui ci allenavamo assieme e quindi eravamo diventati abbastanza amici e perciò sai non è facile perché anche prima di quella gara eravamo assieme facevamo il punto della situazione insieme al papà di Maverick nel loro motorhome che analizzavamo la gara si può fare quello si può fare quell'altro la qualifica come è andata e quindi un ricordo insomma che è ancora questa è la vita questo è lo sport molto vivo molto vivo grazie a Marco Gaggi naturalmente l'imbocca al lupo per questa prima avventura a Barcellona e poi per le prove che seguiranno noi torniamo fra qualche istante e ci spingiamo adesso ad Oriente una sorta di viaggio immaginario nel mondo delle arti marziali nel quale ci prenderà per mano Diego Rillo presidente di Yanglong buonasera e benvenuto buonasera grazie di avermi invitato Diego innanzitutto in questo viaggio in apertura di questo viaggio ci devi spiegare cos'è Yanglong allora Yanglong vuol dire in cinese fiamma del drago quindi nome cinese che rappresenta il nome della nostra scuola ho scelto questo nome particolare che non esiste in Cina infatti ogni tanto mi guardano male che rappresenta appunto fiamma del drago abbiamo un logo che assomiglia appunto a una pennellata zen ma invece di esserci il cerchio zen è un drago hai detto scuola scuola di cosa? scuola di arti marziali tradizionali cinesi quindi il nostro centro la nostra scuola si occupa di Kung Fu quindi di Kung Fu Shaolin ma anche di Tai Chi Chuan di Qigong sto dicendo un sacco di termini cinesi e poi naturalmente ci spiegherai di cosa stai parlando certo e spazia anche su tanti altri progetti quindi condividiamo dei progetti che vanno nella direzione della cultura tradizionale cinese o delle arti orientali ma anche altri progetti che sono legati ai bambini che sono legati agli adulti alla terza età andiamo a caratterizzare le diverse discipline alle quali hai fatto riferimento ok Kung Fu Shaolin è un'arte millenaria nata nel tempio Shaolin patrimonio dell'UNESCO quindi la cultura dei monaci Shaolin ogni tanto si vedono questi monaci vestiti di arancione che fanno questi spettacoli di arti marziali il Tai Chi Chuan invece è un aspetto più diciamo sulla mentre il Kung Fu Shaolin è sulla parte buddista il Tai Chi Chuan è sulla parte taoista quindi è più legato a un lavoro sulla longevità sono sempre arti marziali ma uno è di un atteggiamento diciamo più esterno quindi più sul corpo fisico uno leggermente più interno che lavora più sulla centratura il Qi Gong che è leggermente più medico lavora sul respiro e sul lavoro sull'energia interna quindi per un discorso più legato al benessere della persona queste sono le tre branche principali e chi ci segue avrà già potuto cogliere che parliamo sì di sport ma parliamo anche di tanto altro sì dentro noi abbiamo i corsi per bambini portiamo avanti come abbiamo fatto ultimamente in alcuni eventi quindi fanno la danza tradizionale del leone abbiamo incominciato a fare la danza del drago che è un'altra danza tipica che si usa durante il carnevale cinese o il capodanno cinese e stiamo portando avanti tanti altri progetti collegati con la musica tradizionale cinese o con progetti per il benessere della persona a 360 gradi e qual è la risposta che state ottenendo perché poi dobbiamo anche sottolineare un fatto non è che siete arrivati l'altro ieri in questa realtà ma operate a Fano addirittura dal 2004 quindi celebrate in qualche modo il ventennale della vostra attività sì quest'anno sì celebriamo vent'anni di scuola qui a Fano è una storia importante diciamo che ho visto passare tante persone tanti ho visto crescere tanti bambini quindi sono diventati gli adulti e sì vent'anni di vent'anni di pratica di crescita abbiamo appunto creato il nostro centro la nostra scuola e continuiamo ad andare avanti in progetti sia nell'ambito sociale che nell'ambito della città di Fano localizziamo la vostra sede dove operate? noi siamo in via del commercio 2 nella zona dell'ex sacrificio abbiamo una scuola che era un ex capannone che è adibita per le arti marziali quindi è una scuola attrezzata per le arti marziali tradizionali come è nata questa scuola? mi pare che ci sia stata una situazione un po' particolare che ti ha proiettato a Fano beh sì io ero un ragazzo abbastanza promettente il mio maestro mi lasciò questo corso che all'epoca si trattava solo di un corso di bambini e da lì io ho continuato la mia crescita nell'insegnamento ed è diventato una scuola aperta a tutte le età quindi dai 4 anni ai 99 anni ne avete qualcuno di così anziano? ne abbiamo qualcuno che arriva sui 70 e qualcuno anche un pochino più grande e mi pare di capire se si può praticare questo tipo di disciplina questo tipo di disciplina anche ad un'età così avanzata non conta tanto l'aspetto fisico comunque incide relativamente diciamo così l'aspetto atletico quanto piuttosto è fondamentale quello mentale sì molto spesso arrivano persone che dicono se avessi conosciuto prima le arti marziali o se avessi conosciuto prima il tai chi si arriva e poi scusami ad un primo esame magari sembrerebbe che in realtà la forza abbia la sua predominanza ma credo che importi più l'intento e la volontà cioè nessuno è lì per competere in competizione è lì per migliorare se stesso quindi non è importante arrivare a un'abilità estrema l'importante è il percorso che si fa e quindi di solito chi si avvicina all'erte marziali si avvicina perché è il momento giusto per avvicinarsi quindi che abbia 4 che abbia 10 che abbia 20 30, 40 70 vuol dire che a 70 era il momento giusto per avvicinarsi alle arti marziali quindi non c'è pregiudizio in questo dall'esperienza che hai maturato in questi 20 anni della conoscenza delle persone cosa spinge una persona delle più diverse età ad avvicinarsi a queste discipline ma credo che la maggior parte delle persone un pochino più grandi cerchino un percorso da fare su se stessi quindi sia a livello fisico sia a livello mentale ma anche a livello un pochino più interno a livello spirituale lasciamo il termine spirituale e vogliono fare un percorso più completo che include tutti questi aspetti per quel che riguarda invece i più piccoli cosa in qualche modo vi consente di portarli nella vostra palestra nel vostro centro beh i più piccoli sono appena vedono un cartone animato che parla di Kung Fu adesso sta uscendo Kung Fu Panda o qualcosa dove c'è un combattimento o quant'altro vengono richiamati naturalmente da da quell'aspetto penso che sia un richiamo istintivo da parte dei bambini quindi non c'è bisogno di convincerli una volta che arrivano e fanno la prima prova di Kung Fu si innamorano dell'arte marziale e rimangono per anni nella scuola abbiamo potuto seguire dalle immagini anche delle sedute come si svolgono e se sono come credo diversificate a seconda dell'utenza si partono i corsi dai bambini noi abbiamo dei corsi che partono dal prescolare quindi del 4-6 dai 6 fino ai 12 poi ci sono i ragazzi fino ai 18 e poi gli adulti dai 18 in poi quindi ci sono vari corsi divisi per età per fasce d'età e per richieste e come si articola questa seduta una seduta diciamo canonica una lezione classica? beh prima di entrare nella sala dove si pratica si fa il saluto dalla porta per il rispetto dell'ambiente rispetto dell'insegnante e del luogo di pratica ci si mette tutti in fila su un'unica fila si fa la salute e poi si parte con il riscaldamento quindi con la corsa piuttosto che i saltelli piuttosto che gli scatti l'allungamento lo stretching ci possono essere i fondamentali lo studio dei fondamentali lo studio sugli animali lo studio sulle armi tradizionali come il bastone la sciabola la lancia il combattimento e poi una serie di aspetti che può andare dal saper cadere saper proiettare l'altro sapere fare una tecnica di leva articolare e quant'altro il kung fu sono tanti aspetti tantissimi aspetti di migliaia di anni di pratica sul corpo fisico i numeri sono spesso freddi ma aiutano a capire le dimensioni di un fenomeno di quanti tesserati parliamo tra l'altro la vostra palestra è collegata ad un'altra realtà quella che opera a Riccione sì noi abbiamo una seconda sede che è a Riccione e fra Fanno e Riccione siamo più di 300 300 allievi 300 praticanti e per la tua esperienza sono numeri importanti? sono numeri importanti sono numeri importanti perché una scuola un cuore di 300 cuori sono sono un'energia potente il bacino d'utenza perché chiaramente in realtà di questo tipo non se ne trovano ad ogni angolo di strada per cui credo che vi rivolgiate ad un territorio più ancora che alla città di Fano penso alle vallate piuttosto che al resto del litorale sì la nostra sede di Fano abbraccia tutto il territorio limitrofo quindi anche della provincia di Pesolo Urbino e quindi chiunque anche voglia venirci a trovare nella nostra sede di Fano è il benvenuto ci sono molti studenti che per esempio anche da Pesolo vengono a Fano oppure da altre città vicine o stessa cosa da Riccione magari si spostano da Rimini o da Misano Adriatico per venire a praticare la Riccione altrimenti c'è la Cina per poter andare a studiare le arti marziali tradizionali lì è un po' più lontano e comunque tu in Cina ci sei stato di recente credo approfittando di un rapporto con una persona che non esercita le attività marziali è però stata un'occasione credo come sempre anche di apprendimento e di formazione sì questa volta sono andato in Cina da questo mio amico che abbiamo uno scambio di cultura lui fa il cantante lirico e canta in italiano e io invece faccio le arti marziali cinesi e vado in Cina per studiare le arti marziali cinesi questo viaggio qui è stato più un viaggio di amicizia perché gli altri viaggi li ho fatti per andare a imparare le arti marziali o per fare competizioni anche a livello mondiale c'è sempre qualcosa da imparare visto che parliamo di una tradizione millenaria e uno potrebbe dire vabbè quel che è fatto è fatto c'è sempre qualcosa da imparare la cultura orientale la cultura cinese è affascinante il modo che hanno di relazionarsi con noi che siamo gli occidentali quindi un'apertura la cosa buffa questa volta è nella città dove ero nella città di Chengdu che è famosa per i panda non fanno più arti marziali tradizionali quindi è buffo perché avendo fatto anche una lezione all'interno dell'università di musica cinese i 50 studenti che erano lì a cui io presentavo la mia città la mia scuola da dove venivo nessuno di loro ha mai fatto arti marziali quindi si sta capovolgendo un pochino la cultura si stanno rimbaltando i ruoli esatto loro sono molto più occidentali di noi e noi siamo molto più orientali credo sia già emerso da questa chiacchierata il carattere interdisciplinare di questa attività un carattere che viene ancora più accentuato dal fatto che abbiate una sensibilità verso il sociale attraverso anche delle iniziative molto precise esatto noi stiamo portando avanti un importante progetto con un nostro allievo anzi ormai è un istruttore perché dopo 16 anni di arti marziali ha dato due anni fa l'esame di cintura nera davanti a un pubblico di più di 200 persone ed è la nostra mascotte Matteo che si sta si sta cominciando ad approcciare per insegnare ai ragazzi con autismo lui ha problematiche simili ok e attraverso la sua esperienza di tutti questi anni di 16 anni si mette a disposizione con un approccio appunto di di centratura nel momento in cui fa le arti marziali si mette a disposizione di ragazzi che vogliono fare lo stesso percorso lo sport paralimpico ha avuto uno sviluppo incredibile negli ultimi anni in questo contesto le arti marziali come si collocano? le arti marziali tradizionali cinesi non sono negli sport olimpionici non sono state riconosciute quindi non credo che ci siano nelle paralimpiadi però sono un ottimo strumento di riabilitazione molto spesso si parla del tai chi per quanto riguarda problemi cardiaci per quanto riguarda problemi del sistema nervoso quindi anche sull'aspetto diciamo in questo caso stiamo parlando dell'autismo di attraverso il movimento ripristinare dei processi è funzionale al 100% ovviamente non è sufficiente solo l'aspetto fisico però dà un contributo enorme su rieducare diciamo attraverso il movimento un percorso neurologico su cui poi si può andare a lavorare su quel specifico problema quando ci si avvicina uno sport soprattutto quando le famiglie devono mandare un proprio figlio o una propria figlia a fare questo tipo di sport ci si interroga sempre anche sui costi perché il bilancio familiare va tutelato questo è uno sport che si può praticare immagino così con una spesa contenuta la spesa è standardizzata con quello che sono le altre attività sportive tra l'altro come dicevo stiamo cercando di aprire un crowdfunding proprio per permettere a questi ragazzi con problematiche sull'autismo di fare il percorso in modo gratuito ok quindi stiamo cercando di trovare dei fondi per pagare il nostro insegnante che si occupa di questi ragazzi autistici ma anche di avere la possibilità che questo corso rimanga gratuito a queste famiglie ti lascio infine la possibilità di fare un mini spot per le arti marziali venite a praticare arti marziali perché? venite a praticare arti marziali perché riscoprite voi stessi il claim può essere sufficiente diciamo così grazie a Diego Rillo presidente e tutto fare diciamo così di Yanlong grazie ancora una volta a voi che ci avete seguito vi aspettiamo la settimana prossima a